Sempre più nella storia Rafa Nadal, infatti lo spagnolo per la dodicesima volta in carriera ha trionfato al Roland Garou ed è stato il primo tennista in assoluto a vincere così tante volte un torneo dello slam. Per il terzo anno di fira l'Iberico si è confermato il re sulla terra rossa di Parigi. L'austriaco Dominic Thiem si è dovuto arrendere in poco più di tre ore con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Sono 84 i titoli in carriera per Nadal, il terzo consecutivo come detto a Parigi ed il diciottesimo slam in assoluto. Niente da fare anche questa volta, un unico piccolo errore pesa come un macigno sul weekend della Ferrari in Canada. Sebastian Vettel ha dovuto cedere la vittoria del GP di Montreal a Lewis Hamilton a causa di una penalità per un episodio che ha coinvolto proprio il britannico. Il tedesco della Ferrari al comando della gara dal via è stato penalizzato nei 5 secondi per una manovra compiuta nel 48esimo giro. Vettel, dopo un errore, ha stretto la Mercedes di Lewis Hamilton costretto ad alzare il piede dall'acceleratore per evitare il contatto. L'inglese della Mercedes ha centrato così la quinta vittoria in una stagione caratterizzata sin qui esclusivamente da trionfi Mercedes. Terzo posto per Charles Leclerc. Mancavano solamente pochi dettagli e l'ufficialità. Ora è arrivata anche quest'ultima. Sinisa Mijalovic resta alla Bologna. L'allenatore serbo che ha conquistato un'insperata salvezza subentrando a Filippo Inzaghi ha prolungato il suo accordo con il Rosso Blu fino al 30 giugno 2022, chiudendo così alle voci di mercato che lo volevano sulla panchina di altri grandi club. Questa è la nota della società. Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l'accordo con Sinisa Mijalovic per il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2022. Oltre 700 atleti, 120 tecnici, 50 strutture attive. Sono i numeri più rilevanti del torneo dei centri federali territoriali promosso dal settore giovanile scolastico della FGC con il supporto di Kinder più Sport e riservato ai ragazzi della categoria Under-14, inseriti nel programma di formazione dei centri federali territoriali istituiti sul territorio nazionale. I migliori cinque, vincitori di altrettanti raggruppamenti, si sono sfidati nella fase finale disputata a Centroconi di Tierregna sotto gli occhi del campione del mondo a Germania 2006 e oggi consigliere federale Gianluca Zambrotta. Credo che sia importante portare avanti i progetti del genere per valorizzare soprattutto la crescita dei giovani calciatori e soprattutto poi la formazione degli educatori e degli allenatori. Quindi io credo che sia un progetto da portare avanti e da sostenere assolutamente. Il progetto dei centri federali territoriali è nato nel 2016 ed in soli tre anni ha già vissuto una crescita esponenziale. Oltre alle gare decisive per l'assegnazione del titolo, si sono svolti incontri formativi sia tra i vari tecnici sia con i ragazzi delle squadre finaliste con la soddisfazione del responsabile tecnico dei centri federali territoriali Maurizio Marchesini. Questo vuol dire che ci piacerebbe arrivare a un punto tale in cui in tutta Italia si lavori a livello di dentistico con i ragazzi in modo tale che le qualità dei singoli ragazzi nell'ambiente creato possano manifestarsi liberamente. Il torneo è stato vinto dal Centro Federale Territoriale di Cologno al Serio che ha superato nella finalissima quello di Gassino Torinese, terzo Recanati, quarto Ruvo di Puglia, quinto Palermo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.